5 dicembre in occasione del premio Buttitta al castello Chiaramonte di Favara avrà luogo un concerto d'archi di beneficenza con ingresso gratuito preparato con cura dai docenti e dagli studenti del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento. Abbiamo deciso di partecipare al premio Buttitta per far fare un'esperienza ai ragazzi per farli crescere. Abbiamo trovato una collaborazione da subito con i miei colleghi di archi e ringrazio anche il professor Salvaggio che si sta occupando di quella che poi è la direzione e si occuperà della direzione del concerto. Tra i brani principali ci saranno compositori come Mozart, Mascagni, Rossini sarà un concerto vero e proprio perché parteciperanno anche i docenti e con questo voglio ringraziare la professoressa Gucciardino per averci ospitato ma prima ancora e la più importante è la dottoressa Sermenghi, la nostra preside che mi ha permesso di organizzare tutto quanto. Invitiamo tutta la cittadinanza e tutte le associazioni di volontariato perché trovo che la musica sia estremamente importante e vi aspettiamo il 5 alle 5 e mezzo.